Ciao a tutti amici di The Romayu, ben trovati, eccomi qua di ritorno con un nuovo unboxing ed oggi andiamo ad unboxare una cosa un po' particolare perché di solito non ve li porto spesso e volentieri le semplici edizioni come in questo caso queste slipcover di REC ma era doveroso visto che REC era un titolo molto ricercato e ormai fuori catalogo da parecchio tempo è un doveroso upgrade in realtà, quindi anche se avete REC in collezione, ovvero questa vecchia edizione io vi consiglio di fare comunque questo upgrade perché andate ad incrementare non solo gli extra ora io non ho fatto un confronto diretto ma qui c'era solo il making of qui invece andiamo ben oltre perché abbiamo 88 minuti circa di contenuti speciali ma abbiamo anche l'audio 5.1 DTS HD che mancava in questa versione anche se c'era un bel PCM e soprattutto abbiamo un encoding nuovo, recente, fatto da 64 bits che non è poco ragazzuoli prima di iniziare lo spacchettamento anche per quanto riguarda REC 2 questa ovviamente è la precedente versione direi di fare un minuto ipotetico di raccoglimento per tutti quelli che hanno acquistato REC su Webay da chi lo ha messo al triplo del suo valore originale che dire ragazzuoli? A me dispiace, non volevo prendere in giro nessuno però onestamente io consiglio sempre di aspettare e non buttarsi su Webay è vero che sono passati anni però non vi fate prendere per la gola andate con pazienza, in questo caso la pazienza ripaga sempre eccolo qua, REC 1 e poi vedremo anche REC 2 per la collana Hill House della Eagle Picture devo dire che è una bella slip con anche effetti rilievi sia dalla scritta REC che di questa mano che esce dallo schermo anche nella parte posteriore abbiamo delle parti in rilievo come potete vedere 80 minuti, ho detto 88, in realtà sono 80 audio italiano 5.1 DTS HD Master Audio e poi all'interno abbiamo anche la cover originale e il disco Blu-ray si vede molto bene ma io vi ricordo che REC è un film fatto in economia girato come se fosse un falso documentario quindi la qualità non è di eccelsa per quanto riguarda l'aspetto visivo ma si vede proprio come lo guardavamo al cinema all'interno c'è anche un bel booklet con delle curiosità sul film realizzato in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics quindi ha anche un valore diciamo artistico perché ci sono degli ottimi disegni realizzati sul film dagli artisti della Scuola di Fumetto guardate qui che bello questo disegno andiamo avanti insomma una ottima uscita secondo me un ottimo recupero da parte di Eagle Picture e vi ricordo che questo è un disco ex novo che non ha nulla a che vedere con il vecchio disco come dicevamo è uscito anche il secondo capitolo entrambi disponibili dal 16 di febbraio e questa era la vecchia edizione tra l'altro era un disco da 25 giga non fatto veramente ad arte e lo andiamo a sostituire o comunque lo potete mettere e inserire in collezione con questo secondo capitolo anche in questo caso slip cover con effetti in rilievo sia per quanto riguarda la parte frontale che posteriore qui addirittura abbiamo due ore e mezza di contenuti speciali ragazzi quindi niente niente male audio italiano ovviamente 5.1 di TSHD anche in questo caso e poi abbiamo la cover originale per quanto riguarda la Marai interna anche qui collaborazione con la scuola di fumetto e anche qui troviamo oltre a dei bei disegni anche un po' di informazioni sul film io tra l'altro credo che il primo e il secondo capitolo sono veramente i due capitoli degni di entrare in collezione poi il terzo al matrimonio era simpatico il quarto in montagna onestamente era abbastanza trascurabile per non dire terrificante però non nel verso che faceva paura ma era veramente brutto a vedersi quindi io vi consiglio quantomeno il recupero di questi due capitoli che hanno fatto veramente la storia del genere anche per quanto riguarda i falsi documentali che dire ragazzuoli io vi lascio il link in descrizione per questi due capitoli vi lascio il link ad Amazon ma li troverete un po' in tutti gli store dal 16 di febbraio sono due splendide edizioni anche con i laterali in rilievo da entrambi le parti e che dirvi se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e se vi fa piacere iscrivetevi al canale e mettete la campanella per stare a giornali sempre sull'uscita dei prossimi unboxing e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao a tutti